benvenuti alla 39esima edizione del torino film festival oggi siamo qui per parlare di Tange Sazen The Pot War The Million Rio di Sadao Yamanaka Restauro in 4K a cura della Japan Foundation e di Nikatsu Company un film che siamo stati molto felici di presentare nella sezione Back to Life che è dedicata appunto ai restauri è un tratto distintivo del nostro festival da sempre quello di cercare di trovare il meglio del cinema contemporaneo ma anche il meglio del cinema del passato e diciamo che questa caratteristica ha consentito il festival di crescere e eh negli anni di diventare proprio un punto preciso di riferimento per per i cinefili eh ora la eh sezione Back to Life è proprio dedicata a questa ricerca alla ricerca del cinema del passato e questo appuntamento non non esito a definirlo uno dei più importanti quindi non soltanto della della sezione della sezione di Back to Life di quest'anno ma proprio anche eh di tutto eh il il Torino Film Festival di quest'anno e questo anche per eh la presenza di ospiti prestigiosi che eh adesso andrò a presentarvi. a parlare di questo film di Sadao Yamanaka sarà infatti il regista Kiyoshi Kurosawa che è uno dei punti di riferimento non soltanto per quanto riguarda il cinema giapponese di oggi ma eh anche per quanto riguarda proprio la storia del cinema giapponese mh e questo perché nella sua carriera ha sempre avuto una particolare attenzione una particolare sensibilità a tutte quelle che sono le sfumature più interessanti della produzione della del cinema in Giappone dall'inizio della storia del cinema fino a oggi quindi benvenuto a Kiyoshi Kurosawa. Insieme a Kiyoshi Kurosawa ci sarà anche il professor Dario Tomasi che è docente di storia del cinema all'Università di Torino che per tutti noi possiamo dire proprio un punto di riferimento all'Università perché da sempre si è occupato con grande successo e con grandi risultati eh di diffondere di far conoscere proprio il cinema giapponese agli studiosi e cinefili italiani quindi lascio loro la parola a questo punto il mio compito è finito e sono certa che questo incontro sarà interessante esattamente come il film che vi abbiamo proposto. Buongiorno buonasera a tutti a seconda dei casi eh sono molto contento di essere di essere qui e ringrazio dell'invito il Torino Film Festival e colgo l'occasione per eh salutare perché non abbiamo ancora ho avuto modo di farlo eh Kurosawa Kiyoshi Sensei che ho già avuto modo di incontrare a Torino qualche anno fa quando avevamo organizzato insieme al museo del cinema una retrospettiva dei suoi film. Adesso eh il mio compito è quello di fare due brevi introduzioni davvero brevi su Yamanaka Sadao e su Kurosawa Kiyoshi due due come dire giganti possiamo dire del cinema giapponese eh presenti qui eh qui oggi e poi eh di dialogare di fare alcune domande a eh Kurosawa su eh Yamanaka. Yamanaka. Yamanaka Sadao ha segnato profondamente il cinema giapponese degli anni trenta coi soli Gidei Gheki. I Gidei Gheki sono i film in costume in quelli no? Che noi spesso chiamiamo i film di eh samurai. Gidei Gheki quasi tutti no? Giratti a Kyoto che era la sua città eh eh natale. Purtroppo dei ventisei film che ha girato ne eh sopravvivono solo tre che sono appunto il film eh di cui oggi ci occupiamo. Tange Sazen è il vaso da un milione di rio del trentacinque. Kuchiyama Soshun eh che il titolo è il nome anche del protagonista che è del trentasei e il suo film più noto e eh apprezzato eh che è umanità e palloni di carta in Gio Kami Fusen del mille novecentotrentasette. Un film che è ambientato in un quartiere sotto proletario di Tokyo narra di un samurai disoccupato costretto a vendere il suo bene più prezioso la spada per mantenere la moglie malata che costruisce e vende dei palloncini di carta. Questo film testimonia bene eh quello che è il cinema di eh eh Yamanaka. Testimonia bene come Yamanaka girasse i suoi Gidei Gheki prestando una particolare attenzione alla costruzione dei suoi personaggi, in particolare la loro umanità e il rapporto di questi con la società che li eh circonda. il tutto con una carica espressiva e con una intensità analoga a quella dei registi che optavano invece per un'ambientazione contemporanea come Ozu, come Mizuuchi, come Naruse. inviato con l'avviarsi della guerra in Manciuria, nella Manciuria occupata dai giapponesi, Yamanaka Sadao morirà in un ospedale cinese il diciassette settembre millenovecentotrentotto all'età di ventinove anni. se ciò non fosse accaduto, probabilmente la storia del cinema giapponese sarebbe cambiata. Per quanto riguarda invece Kurosawa Kiyoshi, possiamo senza eh timore di essere smentiti dire che è uno dei più importanti registi del cinema giapponese e internazionale contemporanei. eh e i suoi film sono oggi una presenza costante in tutti i maggiori festival cinematografici occidentali. come accaduto nel 2000 per Seduta Spiritica, Corei, nel 2008 per Tokyo Sonata, nel 2015 per Viaggio verso la Riva, Shiba Notavi, tutti i film che sono stati premiati al festival di Cannes, e più recentemente per La moglie della spia, Spai Nozuma, del 2020, che l'anno passato ha ottenuto il leone d'argento al festival di Veneziae. Dopo aver lungo lavorato nell'ambito della produzione video, i cosiddetti original video, che erano film che venivano, come dire, immessi direttamente nel mercato dell'on video, senza, per forza di cose, passare prima attraverso una proiezione nelle sale cinematografiche. Ecco, dopo aver lungo lavorato in quest'ambito, che è stata una palestra fondamentale per molta, per buona parte, del nuovo cinema giapponese degli anni davanti ai 2000, come oltre al caso di Kurosawa Kiyoshi, testimonia anche quello di Miki Takashi, un altro artista che si è fatto le ossa proprio nell'ambito della produzione video, ecco, dopo questo periodo iniziale, Kurosawa ottiene il suo primo vero e proprio riconoscimento ufficiale con cura Kiyua del 1997, che è un horror psicologico che testimonia, di per sé, come il cinema di Kurosawa lavori in uno stretto rapporto col cinema di genere, con l'horror, con i film di Akusa, con i Revenge Movie, all'inizio della carriera anche con i film erotici, usando però i codici del cinema di genere, per dar corpo a una approfondita rappresentazione del malessere e dell'inquietudine che dominano la società contemporanea. E qui, per non fare che un esempio fra i tanti possibile, anche la sua predilezione per gli spazi abbandonati, in decadenza, che diventano in qualche modo una metafora della società contemporanea. In questo modo Kurosawa è riuscito a coniugare alla perfezione il cinema di genere da una parte e il cinema di autore dall'altra, in un modo che non mi sembra affatto dissimile da quello che Yamanaka instaurava con le Gidaigeki. E che Yamanaka, infine, sia un autore importante per Kurosawa, oltre le cose che sono state già dette in precedenza, lo testimoni anche una scena del suo ultimo film, di La moglie della spia, in cui i due protagonisti, recatisi al cinema, lo fanno per andare a vedere proprio Kochiama Sohshun, che è uno dei tre film sopravvissuti dello stesso Yamanaka. Adesso finalmente possiamo lasciare la parola a Kurosawa Kiyoshi, a cui adesso io rivolgerò alcune domande, lasciando ovviamente a Kurosawa la libertà di dire anche altre cose quando vorrà. La prima domanda che volevo fare a Kurosawa è questa. Mi è capitato di leggere, in più di un'occasione, che Yamanaka Sadao fosse lozu dei Gidaigeki. Non so quanto questa affermazione possa essere vera. Quel che però mi sembra certo è che i Gidaigeki di Yamanaka danno al quotidiano, alle piccole cose di tutti i giorni, ai rapporti interpersonali, un peso che, almeno in quegli anni in cui dominavano le dimensioni epiche o nichiliste, non era così forte nel genere. Quindi da questo punto di vista i Gidaigeki di Yamanaka sono diversi dalla maggioranza degli altri Gidaigeki. Crede anche lei che uno degli aspetti che rendono grande il cinema di Yamanaka sia proprio la sua rappresentazione del quotidiano? Grazie a tutti. 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 viarg Marksrotio. Grazie a tutti. 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 La storia povescia in return. Grazie a tutti. questo c'è l'unico Qui sono stato il tempo di affrontare il tempo giro. Questa è il tempo che la attenzione, perché si getrava di una parte delrzyma. Come si è vero questo tipo di ricerca di un po' di tutti i dichi, si è un punto che miشita, Pagare un po' sottotitono al progettino che ha ridamine un progettino nelle fronte, in cui si è avvenuto il suo lavoro. In Gautamama Soushune, NINJO-KAMI-FUSEN, è stata una buonissima in cui si è avvenuto. Ci sono stati che sono stati in una nuova in una nuova. Ci sono stati che questo è un'attività di Yamanaka Sadao di Yamanaka Sadao. Mi sembrano delle osservazioni estremamente interessanti queste che abbiamo appena avuto modo di sentire sul protagonista duale, il doppio protagonista se così lo vogliamo chiamare del cinema di Yamanaka Sadao che ci permette di introdurre anche il motivo dell'amicizia virile dell'amicizia fra due uomini con caratteristiche diverse ma che a un certo punto scoprono dei possibili legami fra loro che è un altro motivo interessante che riguarda il cinema di Yamanaka. Abbiamo parlato di protagonisti miti deboli, di coppie di protagoniste possiamo ancora allargare il discorso nel senso che a vedere i film, i tre film di Yamanaka mi sembra come il regista non sia appunto solo abile nella costruzione dei suoi personaggi principali delle sue coppie di personaggi ma anche per la dimensione corale dei suoi film una dimensione corale che si vede anche visivamente nelle inquadrature. Sono molto frequenti in Yamanaka Sadao le immagini piene di personaggi con tanti personaggi che si muovono al suo interno ad esempio in Ninja Okami Fusen ci sono molte inquadrature sul vicoletto del quartiere in cui vivono i protagonisti costruite in profondità e piene appunto di personaggi che entrano e escono e vedendo queste inquadrature mi è venuta in mente come un anno dopo Renoir in La regola del gioco abbia fatto la stessa cosa. La regola del gioco è nota per quelle inquadrature dei corridoi in profondità di campo della villa in cui si svolge il film con questo gioco di personaggi che entrano e escono di campo quindi film ricchi di personaggi in grado di rappresentare, far parlare tutto un ambiente un ambiente spesso di tipo popolare se non sottoproletario Kurosawa, pensa anche lei che questa sia un'altra importante caratteristica del cinema di Yamanaka? Grazie VoiceIMa Vinigio Cam Fu神 Vizio Cam13 litri ina BR. Sontate Battilam Nogun il quadro di tutti insieme, i diversi sono stati che si sono stati in questo caso. Ma se c'è la camera di iniziare, con la trance con il quadro di iniziare, ma si è avuto da scopo, l'arrizione delle persone che non sono guardate in questo caso. Ma il quadro di iniziare nelle scopo di iniziare, 本当にない 皆同じなんだ といったような 雰囲気が 画面からも 立ち上っていると思います また タンゲサゼンよは 100万両の都合では 主人公のタンゲサゼンが 遊戯場のようなところに 居候しているんですけれども 彼が何度も L'indangled in questo caso, a volte è il campo alla terra, a volte la terra fuori a fuori, a volte la terra a fuori, a volte la metà non ha abitud, sul via sotto. cioè qui abbiamo il centro e il centro del centro della zona che non è molto diverso, che si tratta di tutto il centro. Questo è il centro di tutti i loro, mentre i loro sono ieri, i loro sono ieri, i loro sono ieri, i loro sono ieri, e tutti tutti stanno stanno stiamo stiamo sempre. E' un'amplice, 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 un'amplice. E' un'amplice che mi sembrava interessante, dei personaggi di Yamanaka, che era la loro indolenza. Però mi sembra che Kurosawa abbia già in qualche modo risposto alla cosa in precedenza, quando diceva che i personaggi di Yamanaka spesso agiscono senza un fine, sono demotivati, sono in qualche modo dei personaggi deboli, dei personaggi che appartengono già al cinema moderno più che al cinema classico. Quindi lascerei un po' da parte questa cosa e continuando il discorso appena introdotto sul vaso da un milione di Ryo, vorrei sapere da Kurosawa se ci può dire qualcosa del personaggio di Tange Sazen, che è un personaggio che non si è inventato Yamanaka, ma un personaggio che appartiene alla storia della letteratura del cinema popolare giapponese. se l'immagine che ha dato di Tange Sazen Yamanaka coincida o sia invece diversa da quella tradizionalmente attribuita di. Insomma, chi era Tange Sazen prima del film Yamanaka e cosa è diventato dopo? Sì. 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 ma non è così, ma non è così, ma che oggi i miei film fanno, il quattro del film che mi piaceva il quattro, probabilmente, il nostro paese di Ozuya Sujiro, il nostro paese di Muzo口賢治, del Ugetu物語, 黒澤明の七人の侍でもなく 間違いなく山中貞男の短毛左膳100万両の壺 これが一番好きだという人が 圧倒的に多く これが1位になることは間違いないです それぐらいこの映画は 日本の映画好きの中では 大人気のある 圧倒的な作品として有名です 黒澤明の七人の侍でもなく 間違いなく山中貞男の短毛左膳100万両の壺 これが一番好きだという人が圧倒的に多く これが1位になることは間違いないです それぐらいこの映画は 日本の映画好きの中では 大人気のある圧倒的な作品として有名です どうしてそんなに人気があるのかというのは 一言で言うと この映画が本当に映画的な映画だから というのが一番単純な理由でしょう もう少し具体的に言いますと この短毛三千のこの映画の凄さは 人がある時突然街の中を歩き出す あるいは突然家を飛び出して走り出す そういった不意に始まる運動が 理屈を超えて見ている人たちの心の中に ある感動を呼び起こす そういう点にあると考えています こういう瞬間を何と呼べばいいのか 分からないんですけども 物語とかキャラクターを超越して 観客の胸が高鳴り目がスクリーンに釘付けになる まあ映画的としか言いようのない瞬間ですね 例えば具体的に言いますと 短毛サゼンが兵の前をさっそうと歩いて 横向きに歩いているショットとか あるいは遊戯場でサゼンが刀を口に加えて 不意にそれを引き抜くところとか あるいはラストでサゼンの投げた矢が 的に当たる瞬間とか まあそういったことを申し上げています これ以外にもまだまだたくさん この映画の中には目を見張る 短毛サゼンのアクションがあるんですけれども こういったことがもちろん短毛サゼンというキャラクターに 支えられていることは間違いありません ここからが多分ご質問への答えになるかと思うんですけれども この短毛サゼンというキャラクターは それを演じる大河内伝二郎という俳優の特殊な個性ですね これは山中の作品以外の短毛サゼンでも存分に発揮されていて この山中サダオの作品でも多くの部分 この大河内伝二郎が作り出した特別なキャラクターというのを 引き継いでいると言っていいでしょう その中でこの短毛サゼン用は100万両の壺が 特別だと考えるのは その考えられる理由は この大河内伝二郎の 非常に個性的なアクションが始まるきっかけが 従来の作品でしたら 武家階級の権力闘争とかですね あるいは武士のメンツとか そういったものがきっかけで この個性的なアクションが始まるんですけれども この作品では なんとたまたま引き取った子どもが可愛いからというですね 極めて庶民的でありふれた感情が この大河内伝二郎の得意なアクションを 引き起こすきっかけになっているという点 これがこのような短毛サゼンが 多分これ以外にないと考えます 私はとても大河内伝二郎の sull'importanza del gesto e su come il gesto possa creare un sentimento e un'emozione, che mi sembra un modo di pensare al cinema da un punto di vista di chi i film li fa, dal punto di vista di un regista, perché secondo me è vero che il cinema è fatto di gesti, è vero, che il gesto ha bisogno del movimento e il cinema è fatto di movimenti, quindi è vero secondo me che il cinema è anche l'arte del gesto, e che a volte un grande regista lo si può anche misurare dal modo in cui sa organizzare, costruire e organizzare i gesti dei suoi attori e personaggi. Adesso, prima poi di chiedere a Corrosao un saluto al pubblico torinese, di dire due cose sul vaso da un milione di rio agli spettatori, che in sala a Torino vedranno il suo film, vorrei chiudere questa intervista con una domanda abbastanza scontata, una doppia domanda abbastanza scontata. Secondo lei, Yamanaka Sadao ha lasciato un'eredità nel cinema giapponese e l'altra domanda è una mia curiosità, lei Corrosao ha girerà mai un'時代劇? Sì, al no... Yamanaka Sadao ha... ...mochirò, ...i ro'io nella modifica di oggi proverò che i film sono in autore, ma non è non si, ... che si Yanfacheva è non esiste ma da ma da anche se ricordo il reto ozayisjiro e vizovici e a lì si guarda che i ci di in il Questo è stato un po' un po' molto antico di merito, maile di現代 di vero come si trattava. Questo è stato un po' molto stile, questo è stato fatto in cui tutti pensate, ma questo è il caso di prima volta che gli stessi che gli stessi 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 non è vero che non è vero questo è stato molto spettato e questo è il mio credito ma di cui si è stato un po' di una prima di una una famiglia di una storia di un po' di una storia che si è stato fatto. Non è stato visto che si è stato fatto, perché è stato un po' di una cosa che si chiama il incendio è stata non è possibile, ma un traccio di traccio. Il fatto che il fatto di un film di rinforzano, che il fatto di rinforzano di rinforzano, che il fatto di rinforzano a fare una scelta di rinforzano. Questo è stato un po' di rinforzano, ma che si può fare un po' di rinforzano. Sì. Sì. a te lo tolto? Un'altra cosa che vi voglio fare, una volta che vi voglio fare, è stato un'altra cosa. Non è stato un'altra cosa, ma è stato un'altra cosa, probabilmente, non è stato un'altra cosa. 必ず悩むと思います 江戸の横丁を舞台にするのか あるいは武士たちの権力闘争に題材を取るのか あるいは地方のアウトローたちを描くのか どれがいいのかなと どの分野にも日本映画史上の非常に優れた監督たちが 取った傑作がたくさんあってですね それを超えようとするとハードルがものすごく高くなるな ということでいつも悩みます 実はそれ以上に難しいのは 現代の日本に大河内伝二郎に匹敵する俳優がいるのか というポイントでしょうね もしそんな俳優が見つかったら 僕は勇気を出してですね 江戸の横丁を舞台にした 庶民的なちょっとコミカルな時代劇に挑戦してみたいなと思っています そして多分その主人公はいつも部屋で寝そべって ダラダラしていて ただ何かあると突然立ち上がって街に走り出していき カメラはフルサイズになって 横に移動しながら 彼が大股で歩いていく様をずっと撮る そんな映画になるのかなと思います 楽しみにしていてください もしできたら ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました